Musica E' bello a tutti ragazzi, c'è iFlex che vi parla Ed oggi siamo in questo nuovo video dove parlerò di notizie scottanti per quanto riguarda in primis l'aggiornamento di Minecraft PC Allora andremo a parlare della versione 1.14 che poi verrà inserita anche su Minecraft Console E in sottofondo vedrete una partita di battaglia Allora come ben sappiamo ci vogliono mettere un nuovo boss E come sappiamo questo nuovo boss dovrà essere scelto appunto da noi Votando e scegliendo opzione A, opzione B, opzione C o opzione D Infatti ci sono 4 opzioni Allora iniziamo a parlare di questi boss Probabilmente ci sarà anche un aggiornamento marino perché se noi ci facciamo caso Riguarderà molti boss che appunto sono marini Poi vi dirò anche il mio parere ovvero il boss che sceglierei io E poi scrivetemi sotto nei commenti le vostre teorie Oppure i vostri... cioè il vostro boss preferito ovvero quello che voterete Allora iniziamo subito possiamo notare con l'immagine che vi sarà apparita sullo schermo Che il primo si tratta secondo me o di un kraken oppure di un polpo gigante Che sarebbe davvero bello vederlo in gioco Però ci sarà secondo me una cosa brutta Ovvero essendo un mob marino tu dovrai andare sott'acqua per combattere Lo vedo un luogo dove si può combattere E sarebbe molto difficile combattere in quella zona Quindi io non lo voto questo mob Andando avanti Vi dico anche l'altro mob Allora è sempre un mob volante Però potrebbe anche essere un mob marino Non si sa Comunque ci saranno tutte le informazioni necessarie nel mine con Iarth Così possiamo cambiare decisione Possiamo sapere altre cose in più per quanto riguarda questo aggiornamento Quindi non so sinceramente se è un mob volatile oppure un mob acquatico questo qui Dobbiamo aspettare per vedere cosa ci dicono Andando avanti troviamo un mini dinosauro Questa è davvero una bellissima idea magari mettere i dinosauri Però se qui c'è solamente un dinosauro e non tanti dinosauri Bisogna un po' valutare la cosa Anche perché Sì se c'è Se ci sono i dinosauri Già il gioco avrebbe un sacco di cose in più Anche perché Cioè raga i dinosauri Cioè meritano tutto il rispetto Inoltre Noi possiamo vedere qui un piccolo dinosauro Non è un dinosauro grande Quindi Io storcerei un po' il naso Per quanto riguarda Non è che Cioè non Io non lo voto Un boss Con quel piccolo piccolo Probabilmente Metizza con il terreno E poi quando tu meno te l'aspetti Quello ti esce E ti attacca Ma bisogna vedere E adesso passiamo all'ultimo Che a quanto sembra dalla foto Anche con una corona Potrebbe essere Un Un re dei blades L'idea sarebbe molto molto figa E infatti Io per adesso Sono deciso A votare Appunto questo Questo re dei blades E niente ragazzi Fatemi sapere la vostra Sotto nei commenti Anche perché è un mob molto figo E sarebbe molto bella L'opzione Che ti mettono Di Di un nuovo boss Nel Nether Perché come noi sappiamo Nel nether Non abbiamo boss E quindi sarebbe davvero Una bellissima Idea Inserire un boss All'interno Del nether Poi scrivetevi ovviamente La vostra sotto nei commenti E quindi questi qui Sono i 4 nuovi boss Che Che ci vorrà mettere La mojang Ovviamente ce ne metterà Solo uno Ma comunque sia Noi ci accontentiamo E quindi ragazzi Per questo video Il giornamento è tutto Vi ricordo di lasciare un like Un commento Iscrivetevi al canale Condividete il video A tutti i vostri amici Per informarli Di questo nuovo Aggiornamento E niente Iscrivetevi anche Nei commenti Il boss Che voi votere Quello che preferite E anche le vostre teorie Quindi ragazzi Per questo video è tutto E niente ragazzi Ci vediamo domani Con un nuovo video Da i flicks è tutto Bella Ciao